Non si può pensare che questi soldi presunti che arriveranno attraverso il MES, che io apro una parentesi, così come il MES o l'AIT, è preferibile rispetto al Recovery Fund, dove ci sono tante incognite, perché grazie a un'informazione esatta, al contrario di quella avvolte sui dati sanitari, che è stata fatta sull'economia, in realtà oggi se abbiamo un MES o l'AIT, anche grazie a un'informazione che è stata fatta, abbiamo un MES che dovrebbe essere utilizzato per le spese sanitarie, consentendo così l'utilizzo per quelle infrastrutturali. Molta attenzione sui Recovery, perché potrebbe rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta con il MES, facendo rientrare delle condizioni, perché ricordiamoci, ce l'hanno detto tutti, se i prestiti sono sempre con le condizioni, a maggior ragione lo saranno quelli che sono i fondi perduti, quindi attenzione, non perché non sia giusto i soldi vengano restituiti, o i Crens, comunque un domani l'Italia dovrà dare un ausilio all'Europa, ma semplicemente vediamo quali possono essere i tranelli, perché comunque nella politica europea ovviamente la trasparenza non è proprio la cosa all'attice... Allora, consideriamo una cosa...